Le previsioni erano esatte, questa notte e questa mattina sono arrivate altre centinaia di immigrati, come commenta questa situazione? Ormai siamo all'assurdo che ogni giorno dai 1000 ai 2000 immigrati clandestini sbarchano sul nostro territorio. Il ministro Alfano ormai è assolutamente incompatibile col ruolo di ministro dell'interno. Ieri il Viminale ha smentito seccamente il ministro Alfano e ha sconfessato seccamente il ministro Alfano. Alfano è stato detto dal direttore dell'amministrazione del Viminale che Mare Nostrum ha favorito e agevolate le partenze. Ieri Alfano è stato sconfessato dal Viminale, oggi Alfano viene sconfessato dalla stessa Unione Europea. Alfano ormai non ha più la dignità per ricoprire il ruolo di ministro dell'interno. Sconfessato dal Viminale, sconfessato dall'Europa, ormai Alfano verrà sconfessato anche dai cittadini stessi.